In un'atmosfera limpida e fissante, si è conclusa l'edizione 2007 del torneo Primavera di Volley, tradizionale manifestazione indetta dalla polisportiva San Paolo Stiense, per i giovani atleti di alcune scuole medie dell'undicesimo, dodicesimo e quindicesimo municipio di Roma. Tutto digitale è sponsor di questa competizione. Dopo molte libranti partite, le squadre qualificatesi per le finali hanno dato vita ad una straordinaria mattinata di gara, di fronte ad un caloroso pubblico. Per la cronaca, il torneo maschile è stato vinto dalla scuola Mistri, nella categoria Prime Medie, e dalla Ricci, tra le seconde. Nel torneo femminile, netta affermazione della Leonardo da Vinci, che conquista il primo posto in entrambe le categorie. Molti gli ospiti d'eccezione alla giornata conclusiva, a ribadire la vicinanza di istituzioni e professionisti dello sport a manifestazioni come questa. Grande entusiasmo, una grande partecipazione, che veramente rimettono in pace la nostra anima con lo sport pulito, con i valori più belli dello sport. Vedere tanti bimbi giugando questa palavoro, che è una cosa bella, sono contento di essere qua, un bel divertimento, niente, auguro tante cose belle a loro e grandi complimenti. Quest'anno è stata un'edizione, ritengo forse, la più bella tra tutte. Abbiamo voluto lanciare un messaggio nuovo, coinvolgendo le prime medie, e quindi abbiamo avuto una risposta entusiasta di questi bambini, soprattutto i più piccoli, che hanno dato vita, come avete potuto vedere, a una grandissima manifestazione. Maggiori informazioni sulla polisportiva San Paolo Stiense sono disponibili al link in sovraimpressione. www.oratoriosanpaolo.it Appuntamento dunque al prossimo anno, per una nuova edizione di questa festa dello sport.